Ragazzi, nella mia seconda patria ormai, la Slovacchia, il partito del filo russo Fico vince le elezioni pre-parlamentari. Purtroppo qua vanno a votare ancora il 64% delle persone, la più alta dal 2002. Ancora non hanno capito che tanto questo dice filo russo, ma poi vedrete che nei fatti farà come la Meloni e si inchinerà alla Von der Leyen e a tutti questi. Quindi questi qua pensano soltanto a Magna e vi ricordo che la Slovacchia è uno dei paesi più corrotti al mondo.